Caro diario, sono sempre io, Giuseppe. La giornata di oggi? Al solito mi sono alzato presto per il lavoro. Mi sono lavato e fatto colazione. Come sempre ritaglio qualche minuto della mia vita per scriverti. Oggi mi aspetto un'altra giornata in cui la vedrò. Chi? La luce dei miei occhi. Proprio oggi vorrei dirle cosa provo per lei. Sì, parlo di Chiara. Quella ragazza che abita nel mio stesso palazzo. Magari sarà la volta buona. Ora però devo chiudere. Mi aspetto una giornata impegnativa. Sento che sto per spegnermi. Ma sorrido. Sorrido perché i miei organi andranno a qualcun altro e non verranno sprecati. Così come il mio cuore. E anche se sento freddo, come una giornata nevosa e tempestosa. Si sa, dopo la tempesta esce sempre e sole. Caro diario, sono Claudio. Da poco mi hanno dimesso, dopo il trapianto di cuore. Finalmente oggi riuscirò a rivedere la mia ragazza. Non posso che ringraziare il mio donatore. Mi sento una persona nuova. Penso di essere innamorato. Il suo nome? Chiara. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.